Musica Benvenuti alla nuova puntata di 20 minuti Veneti, la trasmissione di Piavi TV che mette a fuoco i problemi del nostro territorio. Oggi abbiamo un argomento un po' diverso che però è attuale non solo nel nostro territorio ma anche in Italia. Vogliamo vedere qual è la situazione della popolazione rumena in modo particolare nel nostro territorio e a San Donato. Abbiamo portato qui due esponenti di questa comunità e sono il signor Daniel, per me è difficile dirlo Sabauno, dopo poi lo dirà bene lui, che oltre ad essere rappresentante della comunità ma è anche presidente dell'associazione culturale Decibal Traia e dopo ci dirà cos'è questa associazione. E poi abbiamo una delle mie infermiere, che oggi sul giornale ho scritto una delle stupende infermiere che abbiamo, che è la Gina Tenia e quindi ci daranno un po' la visione di com'è la situazione di questa popolazione rumena da noi, come si trovano, quali problemi possono incontrare. Allora, incominciamo col signor, dica bene il nome che io non l'ho detto sicuramente bene. Daniel Sabuano. Bene, ed è presidente di questa associazione. Esatto. Cosa significa? Il titolo? Ecco, il titolo dell'associazione. Allora, il titolo parte dai nostri predecessori. Decibal era l'imperatore del popolo d'acco nei tempi della colonizzazione di Traiano. Di seguenza è venuto, ha preso nascita il popolo rumeno, come chi ci ha insegnato la storia. Il nome l'abbiamo scelto non così a caso, esattamente per far vedere che c'è una fraternità, c'è una cosa che ci lega. Perché l'imperatore Traiano arrivava da Roma e i dacci erano sul territorio attuale della Romania. Abbiamo messo Decibal, Traiano, che così riusciamo un po' magari a legare di più. Quando abbiamo costituito l'associazione, parliamo del 2004, che i pregiudici in quel tempo, la paura dello straniero era molto divulgato nel territorio e l'unica soluzione era di creare un'associazione di poter mettere in mostra quello, non quello, quello che siamo, ma chi siamo, cosa facciamo, da dove proveniamo e un po' della nostra cultura. L'associazione ha dei scopi culturali, sociali anche, però quello che ci preme di più è trasmettere alla seconda generazione, ai nostri fili, le nostre tradizioni, l'identità, perché sappiamo che non sono italiani i fili dei rumeni che sono nati in Italia e non lo sono neanche rumeni. Dal punto di vista anagrafico sì, sono rumeni, dal punto di vista di immagine, di visuale no, perché sono nati in Italia e per i rumeni sono italiani, per gli italiani provengono dai genitori rumeni e sono rumeni. Sono integrati, io vedo per esempio il nostro infermiere, lei ma anche altre, io spesso non mi rendo neanche conto che è rumena, sembrano che sia italiane, non parlo dell'aspetto, proprio di come parlano, di come seguiamo gli ammalati, non vedo differenze. Ma guardi, dal mio punto di vista, quando il figlio è nato qui o quando è arrivato in un'età molto fragile, 3-4 anni, non possiamo più parlare dell'integrazione, perché studiano, cominciando dalla scuola materna, studiano la scuola, studiano nelle facoltà, studiano nelle superiori, conoscono tutto dell'Italia e quasi poco della Romania, perché io ho coraggio di scommettere qualsiasi roba, perché se domande a una seconda generazione chi è stato Decebal, sono pochi che ti sanno rispondere. Quindi loro imparano tutto da qui, qui non si può più parlare dell'integrazione, perché dal mio punto di vista l'integrazione è già avvenuta e eventualmente si può parlare della inclusione nella società, nella cittadinanza attiva. E' qui un po' che ci troviamo alle margini, ma non dell'integrazione. Secondo me non fa l'integrazione quello che non lo vuole fare, ma per me essere integrato non è che serve tanto, basta avere il rispetto del prossimo, indipendentemente di quello che lui fa a casa sua, noi in piazza, indipendentemente da che religione fa parte, però quando è in mezzo alla gente, quando è una persona dignitosa bisogna portarle il rispetto. Grazie. Lei per esempio, Ginia, nel suo lavoro, o anche nella società, ma diciamo nel suo lavoro, lei nota una differenza fra lei e le altre infermiere? Si sente, secondo me, si sente quasi un infermiere italiana? Non mi sono mai sentita. italiana, non vuole neanche il suo problema. No, io sin dall'inizio, forse io sono stata fortunata, non so, anche perché la maggior parte dei miei familiari sono qua. Noi siamo in quattro donne, femmine, a casa, cioè praticamente quattro sorelle, che per la mia fortuna le altre mie sorelle erano già stabilite qua da tanto tempo, cioè una di loro era stabilita da 15 anni, un'altra 13, un'altra 11, poi per me questo fatto mi ha aiutato tanto, nel senso che mi sono sentita subito come a casa mia. In più, trovando subito lavoro, facendo la richiesta, ben inteso, sto parlando di 10 anni fa, e poi questa struttura meravigliosa in cui mi sono trovata, cioè, sempre per la fortuna, direi, poi anche il reparto, i colleghi, io non mi sono mai sentita una straniera, ma mai, mai e mai. Il lavoro lavora come, lei devo dire, è infermiera, ma è anche farmacista, in Romania è farmacista. Ovviamente bisogna tenere un po' acceso, sa come la fiammetta della caldaia, no? Che devi tenerla sempre accesa, che dopo quando hai bisogno parte e ti riscalda l'acqua. La stessa cosa è anche con noi, cioè, essere assimilato forse è la cosa più dolorosa, per questo che noi, cioè, noi cerchiamo di mantenere vivo la tradizione, la lingua, e in più è anche l'identità, perché è una identità. Ma è come qui a noi, il Veneto, io non lo so parlare direttamente, ma ci si tiene ad averlo, tradizioni. Io sì, io riesco a parlare, forse no, come parla un Veneto puro, ma... Ma sicuramente è meglio di me. La cosa vi manca, per esempio, voi, cos'è che sentite la mancanza? Vediamo, Gina, cosa le manca a lei? Forse... Nel suo paese, intendo, insomma, che qui non trova. Sinceramente sì, mi mancano forse le persone che le ho conosciute là, che le vedo raramente. Forse c'è un po' i miei ricordi, il fatto che di là avevo una vita, ho lasciato una casa, che l'ha abbandonata. Forse questo sì, però... Ma questo, direi, vale un po' tutti per il passato. Sì, però non ho nessun rimpianto. Non rimpianto, e non ci sono. E lei nota qualcosa che può mancare, che vorrebbe riavere? Sì, un pezzo è la mia terra, perché la mia terra è là che sono nato, è là che ho vissuto fino ai venti e passa anni, là che ho i genitori, e quando ritorno, ogni anno, perché ogni anno ritorno, mi ricarico le batterie, perché vedo ancora le cose da quando ero ragazzo, dai tempi di infanzia, vedo quelle cose che qui non riesco a vederle. Quello mi manca. Mi manca un po' le tradizioni, perché sono cresciuto insieme a loro. Non posso dire che manca la cucina, perché avendo la moglie rumena, la cucina rumena si... Poi adesso c'è anche qualche negozio in zona di... Sì, esatto, spesso si fa in casa, no? No, ho detto spesso, non giornaliero, perché al primo posto è la pasta. I figli sono abituati con la pasta ancora dalla scuola materna. Ma la pasta, come è in Italia o è diversa? No, no, come in Italia, perché in Romania non ce n'era. Adesso sì. C'è parte dei nostri piatti, sì. Ma chi l'ha portata là? È chiaro, Barilla, non penso che sia... Sempre noi l'abbiamo portata là. Esatto, esatto. D'altronde direi che anche nel posto di lavoro non ho mai trovato la discriminazione. Sì, qualche tempo fa, magari, quando succedeva tutti quei fatti di cronica nera che venivano evidenziati ogni giorno, sentivi qualche collega che ti diceva, voi rumeni anche se avete un... non so, qualcosa per le mani, l'ho fatto diventare un'arma micidiale, no? Sì. Cose abbastanza difficili da digerire, però l'ho capito nel suo intento. È un po' come è stato il problema degli albanesi all'inizio quando sono venuti, insomma? Sì, a parte quello, no? Però quando si prende un popolo di mira, si va avanti per un bel po', e noi siamo stati per parecchi anni presi di mira. No, ecco, forse non vi aiuta, una critica che magari adesso sentiamo tutti e due, sul fatto che a volte c'è qualcuno che confonde rumeni con Rom. Abbiamo visto, non sentiamo delle polemiche, ma c'è ancora gente che vi confonde in questo senso. Ma sai, dal mio punto di vista, per quanto tempo, indipendentemente che sia Rom o che sia rumeno, no? Quando lui viene fermato dalle autorità, ovviamente tirando fuori la carta di identità, non scrive sulla carta di identità che è Rom, è chiaro, scrive di nazionalità rumena. Questo è. Ecco. E si vede, può essere un Rom, ma può essere un Rom che ha fatto una bravata, può essere un Rom che ha fatto delle cose abbastanza seri, come che può essere anche un rumeno che ha fatto cose abbastanza grave. Ma come tedesco, come italiano. Esatto, no? Ma parliamo della comunità, no? E' chiaro che sul notiziario ti appare la scritta che è stato un rumeno, non ti dice di etnia Roma o sciita, è stato un rumeno. E' chiaro che oggi è un rumeno, domani è un rumeno, dopo domani è un rumeno, no? Viene fuori la polemica. Ma voi la sentite questa polemica? L'avvertite, diciamo? Direi che a volte sul notiziario io sì, perché se si tratta di un Rom che è rumeno, non specifica l'etnia di appartenenza Rom, se si trova davanti di un Rom che ha la cittadinanza italiana, viene detto immediatamente la parola successiva Rom, che sia sciitto, che sia, insomma. Questa differenza si è fatta, sui notiziari si fa tuttora, non è che adesso hanno spesso. Questa è una cosa vera, lì in maniera particolare sul lavoro, non sente lei questo, non lo vivete questo tipo di polemiche? Io non l'ho mai sentito. Però ho sentito le altre che abbiamo, nessuno aveva notato queste polemiche, anche su Facebook, sui giornali, non la vivete questo. Forse lui che segue più... Non ambito lavorativo, cioè che non si faccia confusione, io parlo di quello che sento sui notiziari nazionali. Se parliamo di Mediaset o che la RAI, è sempre la stessa cosa, specialmente il Mediaset di più. Però insomma, non in ambito lavorativo. In ambito lavorativo è un'altra cosa, perché in ambito lavorativo ognuno può prepararsi nella maniera più adatta. Cioè tu vedi i tuoi colleghi che hai di fronte e lo sai anche come affrontarli, perché a volte un po' di orgoglio bisogna lasciarlo da parte e bisogna mandare giù, tra parentesi, i rospi, quando sai che bisogna mandarli giù per non arrivare a certi discorsi. E chiudendo un po' gli occhi si va avanti, è chiaro. Non mi sono mai permesso e non mi permetterò mai di chiedere di fare quello che io facevo a casa mia in Romania. No, perché io quando ho accettato di venire in Italia, ho accettato questo paese, ho accettato le leggi di questo paese, ho accettato i politici di questo paese, indipendentemente di quello che succede, io ho accettato. Quindi mi sono adeguato. Una domanda che pone una risposta abbastanza breve. Allora, lei ha il dato generale, rappresentata da quante persone la comunità rumena ha a San Donato di Piave? Nel comune, diciamo. Ma i dati anagrafici precisi non è che li conosco tanto. Lo so che possono superare i 1200. Ecco, sì anche a me risulta circa una... 1200 persone, se un anno e mezzo fa con diritto di voto erano intorno ai 936, vuol dire che superava i 18 anni, se mettiamo anche un figlio, se metti a 936, che è di più, si arriva a 1300. Ecco, da un punto di vista di lavoro, noi abbiamo parecchie, un po' nel mio reparto, posto all'operatoria, ma anche in medicina, eccetera, di infermiere rumene. Lei ha un dato per dire all'incirca se le infermiere vengono in numero abbastanza rilevante da noi? Perché all'inizio noi avevamo bisogno di infermiere e siamo andati di su a noi a cercarle là. Infatti sono arrivati, sì, in un numero abbastanza, diciamo, importante, negli anni 2004, 2005, anche 2006 credo, forse anche dopo, però col passare degli anni, poi la richiesta è diminuita anche perché con i tagli della sanità è diminuita e così un po' alla volta. Adesso stanno arrivando anche un po' i medici. Sì, adesso si parla di questo arrivo dei medici, ma comunque si ha, sì, ultimamente vengono sempre di meno. Allora, altra domanda invece che, poniamo le altre due e siamo ormai, ci avviciniamo verso la fine, e quindi è una domanda un po' conclusiva. Cos'è, partiamo prima dal nostro rappresentante dell'azione culturale, cos'è che lei si sentirebbe di dire a noi manca questo, nel senso vorremmo che le istituzioni dessero qualcosa a noi che forse non abbiamo? Io ho sempre detto che prima di chiedere deve offrire. Non puoi... Ecco, sta dicendo una cosa che tutti voi dovreste sentire e parlare. Non puoi chiedere senza offrire, no? Alle istituzioni non è che puoi chiedere qualcosa di più rispetto a un cittadino di questa città. L'importante è che ci pensino di più per la seconda generazione, perché noi siamo passati, io ho oltre i 22 anni da quando sono in Italia, dal 97 che sono intorno a San Donà, e il nostro tempo sta passando. Magari i nostri figli, che adesso sono nelle superiori o nelle medie, che siano visti come cittadini di questo paese e di questa città. Per esempio, quando vai in comune, anche se si chiama Saboanu, o si chiama in un altro modo, quando sul suo certificato di nascita che è scritto che è nato a San Donà, ormai non penso che può essere considerato come un straniero. Anche di quello che... Anche perché la comunità europea è quella, non è che... Sì, ok, esatto, e se si crede in una Europa unita e forte, bisogna passare certi ostacoli. E io ho questo che chiedo, non è che chiedo qualcos'altro. Quello che sostanzialmente gli Stati Uniti non vengono a dire, tu sei del Nevada, tu sei del Texas, questo è. Esatto, esatto. Lei Gina avrebbe qualcosa, proprio riallacciandosi anche a quello che ha detto lui riguardo ai figli, lei è figli chiaramente più giovani, perché è più giovane, e ha qualche prospettiva che le lascia un po' perplesso, paura per i figli, che evidentemente rimarranno qua da noi? Sì, cioè, paura un po' ce l'abbiamo tutti quanti, perché il futuro è così com'è. Cioè, è tutto... E certo per tutti, anche per noi però, insomma, ecco questo... Però, alla fin fine, la vita deve essere presa, così come avviene, e darsi la forza, tirare avanti, e mettercela tutta, e niente, affrontare tutto così, come... Sostanzialmente chiede un po' quello che è sulla sua linea... E sono preoccupata, per esempio... Di dover andare avanti, come se fosse... Per il futuro, ma non perché... Cioè, il futuro è così dappertutto un po'. Sì. Anzi, nei paesi meno sviluppati, secondo me, ancora... Quindi non è che gli manca un qualcosa che lei chiede allo Stato, se vogliamo dire. No, cosa possiamo chiedere? Niente. Quello di lavorare, di agire come se fossimo... Appunto. Noi? Cioè, io quello che ho avuto bisogno, ho sempre avuto, nel senso che non ho mai avuto delle difficoltà nell'ottenere quello che era il mio diritto, il mio diritto proprio, di cittadino europeo. Lei che la conosco, è una che va avanti. Di cittadino europeo, perché alla fin fine è quello che dovevo risolvere, ho risolto tutto, ho tutti i miei diritti di un cittadino europeo. Bene, ringraziamo questi esponenti che hanno detto delle cose che io ritengo molto importanti. Specialmente quella frase, tenetela presente tutti, quella che prima di chiedere bisogna dare. Questo vale per loro come vale per noi italiani. Prima di chiedere qualcosa allo Stato, alla sanità, dobbiamo pensare anche di rispettare i nostri diritti, ma seguire i nostri doveri. E questo penso che sia una cosa che dovete tenere presente tutti. Bene, ci rivedremo tutti assieme in un'altra puntata e un grazie ancora a voi. Con tanto piacere. Grazie a voi che ci ha dato la possibilità di esprimerci della nostra comunità. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.